E noi ci concentriamo sulla trasferta del Pescara in casa del Sestri Levante, questa partita si giocherà sul neutro di Carrara. Per le ultimissime ci colleghiamo con Massimo Profeta. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione dell'Ascolto. Paolo c'è una buona notizia perché Cuppone si è allenato, ha smaltito la febbre, ieri aveva 38. Sta bene anche Tugnov, ne avevamo dato conto sul sito, la giornata di ieri sul nostro sito www.reteotto.it. Ricordiamo Tugnov sostituito sabato da De Marco, contusione al ginocchio per l'Eston e tradotto in numeri tutti convocati, sono tutti a disposizione di Zeeman che potrebbe comunque operare qualche cambio non in difesa, sicuramente a centrocampo, Franchini scalpita, l'ex Padova ha fatto registrare del resto un buon impatto sabato con l'Arezzo. Ricordiamo che è entrato al posto di D'Agasso, Aloy in vantaggio su Tuniov, ma siamo nel campo Paolo delle supposizioni. In attacco Cangiano in luogo di a Cornero e forse Tommasini sarebbe il debutto per Cuppone. Probabile 11, plizzari tre pali in difesa Pierno, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo, Franchini squizzato, dubbio Aloy Tuniov, davanti Merola e Cangiano, supporto di uno tra Tommasini e Cuppone, sembra indietro Vergani. Nel Sestri, che è una squadra battagliera, la conosciamo poco a dire il vero Paolo, out il solo Riccardo D'Antoni, attaccante del 2002 che è stato prelevato in estate dal Riccione, rottura del crociato per questo sfortunato ragazzo. I giocatori più rappresentativi sono Raggio Garibaldi che ha trascorso, ha avuto trascorsi in serie B e C, anche due presenze in A nel Genoa, club nel quale è cresciuto calcisticamente nella stagione 2008 con Gasperini allenatore, due presenze nel massimo campionato. Soprattutto Vasco Reggini, che è un difensore, è un terzio sinistro, adesso gioca da centrale a 33 anni ed è stato all'indipendenza di Zeman nella stagione 2010-2011 in serie C a Foggia, dopodiché ha spiccato il volo, lo ha forgiato quindi il tecnico boemo perché poi ha collezionato con la Sampdoria circa 140-150 presenze in serie A. Direi che è tutto per il momento Paolo, se non ci sono domande la linea torna a te.